L'estate pugliese non è a rischio restrizioni, a dirlo sono gli assessori regionali Lopalco e Dell'Inoci nel tranquillizzare gli operatori turistici. Si cominciano a sciogliere i nodi sui quasi 200 milioni di euro spesi dalla regione Puglia per l'emergenza Covid. A 29 anni dalla strage di Via D'Amelio a Palermo dove persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta Bari ricorda l'accaduto. L'emergenza Covid in apertura del nostro telegiornale regionale a tutti il più cordiale saluto dunque lo dicevamo nei titoli la variante Delta non fermerà l'estate dei pugliesi l'hanno detto due rappresentanti della giunta regionale il servizio d'apertura di Paolo Franza. Noi rispetto a tante altre regioni d'Italia abbiamo un leggero vantaggio la circolazione virale è ancora molto bassa dobbiamo monitorare attentamente la situazione ma non farci prendere dal panico. La variante Delta Avanz il comitato tecnico scientifico corre ai ripari con un piano che prevede il Green Pass solo dopo due dosi di vaccino per stadi, palestre, eventi, concerti, luoghi dello spettacolo, treni, aerei e navi. Tutti i vaccini che arrivano vengono distribuiti le nostre agende sono comunque piene quindi non abbiamo un grosso problema di rifiuto vaccinale. Dobbiamo continuare a incentivare come media anche come cittadini come politica a fare i vaccini e quindi arrivare a quanto più possibile all'immunità di Greggia che ci metta al sicuro quanto più possibile. Giovani come legittimo che sia cercano di divertirsi in tutti i modi possibili. Dobbiamo provare a creare delle regole per farlo in sicurezza. Se il governo riesce a costruire delle condizioni sanitarie per riaprire discoteche nel rispetto alla sicurezza si evitano tutte una serie di eventi fuori legge che stanno succedendo e che poi stanno impazzando. Lo spettro zona gialla con il ritorno a regole e misure più restrittive preoccupa alcune regioni. La Puglia al momento è esclusa ma gli operatori turistici sono molto preoccupati. Non ci sono ancora disdette ma sono venute meno conferme e richieste di prenotazioni. I vaccini sono l'unica strada d'uscita. Su quello dobbiamo aumentare, aumentare il numero e le persone devono convincersi che è cosa buona e giusta vaccinarsi. Chiaramente dobbiamo usare ancora tutte le accortezze possibili. Distanziamento sociale, mascherine, stare quanto più possibile all'aria aperta. È chiaro che la variante Delta spaventa tanto. Restiamo ai margini dell'emergenza Covid. Michele Mignano non c'è e la seduta è stata aggiornata la prossima settimana. Si cominciano a sciogliere i nodi sui quasi 200 milioni di euro spesi dalla regione Puglia per fronteggiare la pandemia. Non torna tutta quella questione che noi abbiamo sempre sollevata in maniera critica, cioè la spesa per l'ospedale in fiera, la spesa per la fabbrica delle mascherine, la spesa per i cargo dei DP provenienti dalla Cina. Michele Mignano non c'è e la seduta si riaggiorna la prossima settimana con il coinvolgimento del Dipartimento Salute, ma i nodi si cominciano a sciogliere. Approdano in commissione i quasi 200 milioni di euro spesi dalla regione per le attività Covid, oggetto di domanda di rimborso al Governo. Un buco riempito anticipando da via gentile le cifre, aveva spiegato il capo della Giunta, 195 milioni di euro complessivi, quelli non garantiti da finanziamenti statali, ma con manovre attinenti alla dimensione regionale, come riserve accantonate, quota payback vincolato dal Ministero e coperti in sede di bilancio consuntivo 2020. 110 di questi riguardano le spese sostenute dalla Protezione Civile, assicura il dirigente Mario Lerario. Sulle altre serviranno gli approfondimenti delle altre sezioni della regione, che pure conferma di aver rendi contato tutto a dovere, tanto da ottenere a luglio il disco verde al documento finanziario dalla Capitale. Ma la matassa è più aggrovigliata di quanto non appaia, fanno le pulci dall'opposizione. C'è stata una prima ripartizione di somme da parte del Governo e questa prima ripartizione di somme è andata a coprire i costi sostenuti nella prima fase, intorno ad aprile 2020. E questa ripartizione è stata più pingua rispetto ai costi sostenuti. Cioè rispetto a circa 65 milioni di euro noi abbiamo avuto 110 milioni di euro. Poi c'è stata la ripartizione di un miliardo di euro. In questa ripartizione di un miliardo di euro noi abbiamo preso solo 10 milioni di euro. Quindi per un totale complessivo di 125 milioni di euro. E perché noi abbiamo preso solo 10 milioni di euro rispetto ad altre regioni? Perché non sono stati rendi contati i costi. Complessivamente noi prendiamo solo 125 milioni. La Facoltà di Medicina a Lecce è realtà. Infatti oggi è stata presentata nella Sala Congressi dell'Ecotecne. In platea tutte le massime cariche politiche. Sentiamo Maria Teresa Carrozzo. Assessore, lei in tempi non sospetti promise la partenza di medicina presso le nostre emittenti, ospite della nostra trasmissione. Entro settembre possiamo dire promessa mantenuta? Sì, promessa mantenuta ma io penso che siamo andati anche oltre. Davvero tutto il territorio pugliese ha contribuito a questa grandissima vittoria e ogni città, dobbiamo dire che ha, ogni capoluogo ha una sua università di medicina. Questo è davvero straordinario, importante. Abbiamo puntato sul livello alto di formazione, abbiamo puntato sulla ricerca e innovazione, abbiamo puntato su MedTech. Quindi siamo davvero contenti, soddisfatti. Adesso però occorre lavorare ancora meglio, occorre, come dicevo poc'anzi, puntare alla qualità. In realtà la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Applicazioni Biomedicali a Lecce. La novità è stata presentata presso l'Ecotecne dal governatore Michele Emiliano in collegamento Skype e dal rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollis. Ovviamente in plateo presenti tutte le massime cariche politiche istituzionali, regionali e comunali. E adesso torniamo in qualche modo a parlare di Covid. Militari positivi al coronavirus a bordo dell'Unità della Marina Militare Inglese che questa mattina alle 5 è arrivata a Taranto passando attraverso il canale navigabile ormeggiandosi in Mar Piccolo. Sentiamo Gianmarco Sanzonino. L'equipaggio è tutto vaccinato con doppia dose, tuttavia durante i controlli di rutina a bordo con tamponi rapidi alcuni sono risultati positivi al Covid ma asintomatici o paucisintomatici. Questi, insieme ad altro personale considerato contatto stretto, verranno sottoposti a isolamento mentre tutto l'equipaggio sarà sottoposto ad un rigoroso protocollo di contenimento. Accade a bordo della fregata inglese HMS Diamond che ha fatto ingresso alle 5 di questa mattina a Taranto. All'interno dell'arsenale effettuerà importanti manutenzioni che si sono rese necessarie a seguito di una avaria occorsa durante l'attività in Mediterraneo. La Marina Italiana, in collaborazione con l'ASL, si è messa a disposizione predisponendo, grazie al Centro Spedaliero Militare di Taranto, personale per poter garantire tamponi e strutture per alloggiare il personale il risultato positivo, garantendo sicurezza dei militari inglesi, quelli italiani e della popolazione. Ricorre oggi il 29esimo anniversario della strage di Via D'Amedio a Palermo, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta Bari. Ha ricordato questa mattina l'accaduto. Sentiamo Antonella Fazio. 29 anni sono trascorsi da quel tragico 19 luglio del 1992, quando un'autobomba con 50 chili di tritolo esplode in Via D'Amelio a Palermo, uccidendo il giudice Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta. Una ferita mai rimarginata e tante verità ancora da portare a galla, ma la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accumunati dall'impegno contro la mafia e dal sacrificio della vita, diede il via a una reazione che non si è ancora esaurita. Un sacrificio e un impegno al quale, nell'anniversario di Via D'Amelio, anche il Comune di Bari rende omaggio, con la deposizione di una corona nella via dedicata ai due giudici palermitani e davanti al parco, che porta il nome dell'unica donna della scorta, Emanuela Loi. Abbiamo il dovere di ricordare a noi stessi, agli appartenenti alla Polizia di Stato e a tutte le forze dell'ordine e soprattutto ai giovani per fare in modo che i valori della legalità si affermino sempre di più proprio nel rispetto di coloro che hanno dato la vita per la legalità nel nostro Paese. Non dimentica e ricorda, questo è l'indirizzo più importante, sicuramente quello di ricordare, di spiegare che cosa è successo, che queste vittime non siano in vane per tutto quello che l'intera nazione sta facendo. Grandi risultati li stiamo ottenendo grazie alle forze dell'ordine, alla collaborazione anche dei cittadini che sono molto più attenti a segnalare sia il malaffare ma anche se c'è qualcosa che non va in città. E adesso la cronaca, ci occupiamo dell'omicidio avvenuto all'Equile, è stato ucciso come sapete un ex direttore di banca mentre prelevava al Bancomat, i carabinieri hanno arrestato il presunto complice del 31enne albanese. Vediamo il servizio. Ucciso per pochi euro davanti al Bancomat, si chiude il cerchio sulla rapina finita male all'Equile. All'alba i carabinieri hanno arrestato il presunto complice di Paolín Macai, il 31enne albanese, che venerdì sera avrebbe premuto il grilletto più volte dopo che Giovanni Caramuscio, 69enne, ha reagito alla rapina sferrando un pugno. Si tratta di Andrea Capone, 28enne di Tricase, residente all'Equile, condotto in carcere con l'accusa di omicidio aggravato in concorso, porto abusivo di arma, alterate, ricettazione. Ad incastrarlo la felpa scura a maniche lunghe, ritrovata nel pozzo dei Vigili del Fuoco, e che, come emerge dalle immagini dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza passati a setaccio dagli inquirenti, era quella che indossava il rapinatore non armato la sera della rapina. La felpa sarebbe la stessa indossata da Capone in altre occasioni, come evidenziato in alcune foto pubblicate sul suo profilo Facebook. L'omicidio si è consumato sotto gli occhi della moglie di Caramuscio, che ha assistito alla scena, prima testimone. Utile alle indagini anche il racconto di un'altra persona presente, che ha riferito particolari utili, come la presenza di un individuo con una busta piena di indumenti, che poco dopo è stato visto a mani vuote. La busta è stata rinvenuta in un pozzo vicino al Banco di Napoli, di via San Pietro e Lama. Già nella notte dell'omicidio i carabinieri hanno bussato alla porta di Macai, trovandolo in Bermuda in evidente stato di agitazione, e con in casa la pistola nascosta in una pianta ornamentale, la stessa utilizzata presumibilmente qualche ora prima per la rapina. Si chiude così, almeno per il momento, una brutta pagina di cronaca che ha scosso non solo la comunità di Lequile, ma tutto il Salento. Chiudiamo così questa edizione regionale del nostro OTG, ma l'informazione su Antena Sud proseguirà tra poco con le edizioni provinciali. Grazie. 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 Grazie.